Sì, salutiamo gli amici, ci saranno anche facendo le foto tra poco a NEC Mi raccomando, diamo la precedenza a quelli che hanno il cd originale Non vogliamo... Ragazzi, perché è un po' di entusiasmo, ma quello... Quello forte... E allora... E allora... Quest'oggi l'entusiasmo lo abbiamo qui, lui è di casa nostra E l'arrivamento di Atene è sul palco del Mediamond 5% di grande miglia Modena E noi, l'applauso, signori E qui... Ci facciamo fare il giro lungo Ci facciamo fare il giro lungo Gli applausi... E qui... E qui... E' il momento giusto Per fare un grande applauso a questo nostro artista Gli applausi... Grazie a tutti Ovviamente vi vedono di salutarvi Quindi io non mi parlerei più Vi aspetto qui Per il nostro grande legger allora ricordiamo che quando si sale sul palco l'uscita è alla vostra alla nostra destra o alla vostra sinistra come preferite vi raccomando il cd aperto e pronti per fare l'autografo e la foto prendere il cd che non l'hanno ancora comprato qui al Mediavor c'è la possibilità per fare l'autografo e la foto Grazie